Per prima cosa non un doveroso ma sincero complimento agli organizzatori perché questi eventi sono sempre particolarmente interessanti. Un'occasione di scambio di esperienze, di conoscenze, un'occasione per conoscere start up, per conoscere occasioni di riuso, per conoscere persone che hanno risolto da tempo problemi che tutti quanti abbiamo. Per chi come me lavora, opera nella pubblica amministrazione è un investimento di tempo, un proprio investimento che dà un suo ritorno perché tra le tante cose che vengono presentate sicuramente ce ne sono alcune che possono essere prese ad esempio e si possono anche trovare i contatti per poter riusare soluzioni, idee di altri. Per chi fa come me l'innovazione, per fortuna copiare non è un peccato ma un merito perché copiare vuol dire anche a volte drasticamente ridurre i tempi di attuazione di progetti complessi che danno benefici per le persone e per le imprese.